Questa sera non siamo in televisione, questa sera la siamo la televisione, ovviamente non per merito mio. Benvenuto a Movie Mag, Pippo Baudo. Grazie, grazie. Questa bella presentazione mi commuove. Si figuri a me. Allora, è stato protagonista qua al B-Fest, non edizione di una applauditissima Masterclass. Come superconduttore, già la conoscevamo, come amante, protagonista del cinema, a meno. Partiamo dalle origini. A sei anni lei interpreta il figlio di una santa. Sì, Santa Rita. Al mio paese venivano le compagnie di giro, le quali facevano in varietà, però poi verso la fine facevano questi drammoni sacri. Una volta facevano il Christus, una volta facevano Credo, una volta facevano anche la Passione di Cristo e qualche santo. Tra questi Santa Rita. Santa Rita aveva dei figli, ci voleva un figlio, l'ho fatto io, sono il figlio di Santa Rita. Così ho debuttato sei anni. Allora, superconduttore è legato soprattutto a Sanremo. Sì. Un record di presenza. Non solo a Sanremo, necessariamente. Ho un record perché sono 13 e non penso di essere superato, con tutto il rispetto nei confronti dei colleghi. 50 anni dalla prima prova a Sanremo, 50 anni dalla prima prova cinematografica, che sono tre parole. Zoom, zoom. Zoom, zoom, zoom. No, ne ho fatti tanti di musicarelli. Quando è il primo, 1968. No, musicarelli hanno fatto zoom, 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 numero uno e zoom, 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 numero due. Sempre con i corbucci. Sempre con i corbucci. Giravamo sulla spiaggia, a Lavinio, vicino a Roma, e io dovevo colloquiare con Peppino De Filippo. Che non è una cosa che accade tutti i giorni, diciamo. Appunto, io mi avvicino al commendatore Peppino De Filippo, il commendatore, il copione, vogliamo ripassarlo. Lui mi ha guardato e mi ha detto, voi lo sapete, dico, beh, l'ho letto, e se lo sapete voi va bene così. E che significa? Improvvisiamo. Improvvisare con un comico non è facile, soprattutto nella forza di Peppino De Filippo. Mi sono messo una mano in tasca, mi pizzicavo per avere dolore, per non ridere alle sue battute, perché improvvisava tutto. Con un trombone, uno strumento, e mi interrompeva mentre io presentavo sul palcoscenico. Quindi era difficile leggere. Però alla prima buona. Sul lato femminile le faccio alcuni nomi, gliene faccio solo uno. Sharon Stone. Beh, Sharon Stone, l'ho baciata, l'ho baciata, ho scoperto la felicità. No, è una bellissima donna, un po' intelligente, ironica, furba. Mi ha accolto in albergo, ci siamo messi d'accordo, io ho detto, senta signora, dobbiamo stabilire, e ha fatto tante cose, ha letto una cosa molto bella, romantica, che riguardava la sua famiglia di origine, poi ha ballato con me, poi ci siamo anche baciati alla fine, insomma, un bel ricordo. Ci credo. Che rapporto ha con il cinema da spettatore? Cosa le piace? Molto appassionato. Io, per esempio, sono un tifoso di Paolo Sorrentino, mi piace molto. La grande bellezza, secondo me, era la dolce vita di oggi, ma fatta veramente molto bene. Sono molto curioso di vedere questa nuova fatica di loro. Nella sua carriera ha conosciuto tanti grandi registi e tanti grandi attori. Chi ricorda con più affetto, comunque con più ammirazione? Con grande affetto Massimo Troisi. Massimo Troisi mi ha lasciato un segno, perché io sono stato dagli scopritori della smorfia, l'ho portato in televisione, poi dalla televisione è arrivato il cinema, il primo film, ricomincio da tre, sono stati il primo a vederlo. E mi sono accorto che era stato tutto girato in un interno, perché Massimo amava le cose raccolte, soprattutto non usciva mai di casa. Allora gli ho detto, ragazzi, ma qui qualche esterno ci vuole. Infatti l'esterno è girato sul ponte a Firenze, gliel'ho imposto io. Quindi anche un Pippo Baudo regista che ignoravamo. No, per carità, regista. Un'ultima cosa. Su Fler, registratore, suggeritore. Suggeritore. Ci spiega una cosa, baudismo. È stato sdoganato dall'Accademia della Crusca. Ma cosa vuol dire baudismo? Agire, muoversi, essere un po' tutt'uno con lo spettacolo, come regista, come provocatore, come musicista, significa baudismo. Io l'ho scoperto andando all'Accademia della Crusca, dove assieme ai neologismi c'è un bel capitolo sul baudismo. Mi sono sentito importante, devo essere sincero, molto.